Applico un primer occhi per far dorare di più il make-up. Faccio una base bianca compatta con l'aerografo e in realtà gran parte di questo make-up l'ho fatto con esso, ma si può fare benissimo anche con gli ombretti sfumandoli bene tra di loro. Sugli occhi inizio con un mix di acqua color blu ed azzurro per fare una base da seguire successivamente. Miscelo il blu e il rosso per ricreare il viola che desideravo e lo sfumo bene sulla base occhi data in precedenza. Riprendo il bianco e lo applico solo al centro delle palpebre. Sfumo un arancione fluo dagli zigomi alle tempie. Adesso sfumo il giallo subito sotto agli occhi scendendo quasi al centro delle gode. Sfumo il verde fluo subito sotto agli occhi e sulla fronte. Riprendo il viola e aggiusto la forma sfumandola un po' verso l'alto e anche verso il naso. Adesso sfumo un po' di giallo sulla fronte dove avevo applicato precedentemente un po' di verde. Con un ombretto viola intensifico il trucco occhi. Applico il giallo fluo sulla base bianca che avevo fatto prima. Sfumo il viola anche sotto la rima inferiore. Applico sull'ombretto giallo dei glitter trasparenti con riflessi gialli ed arancioni. Applico queste ciglia finte ricamate sotto la rima inferiore. Con un eyeliner in penna traccio una riga sottilissima sulla rima superiore. Applico una matita nera intensa sulla rima interna ed un velo di mascara. sulle labbra ho deciso di applicare un rosa shock aiutandomi con un pennellino per dare meglio la forma. ed applico solo al centro il sovracolor oro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.